Per aiutarla a vivere più intensamente questa quaresima, l'associazione Luci sull'Est vuole offrirle in questo numero di spunti, una meditazione della Via Crucis, tratta dalle opere di Sant'Alfonso Maria degli Uori. Il pio esercizio della Via Crucis, ha come scopo di rinnovare il ricordo dei dolori che Gesù patì nel tragitto dal pretorio di Pilato, il luogo della condanna a morte, fino al monte Calvario, dove offrì la sua vita sulla croce per la nostra salvezza, e ci aprì le porte del Paradiso con la sua gloriosa resurrezione. La Via Crucis, è anche un mezzo per stare vicino a Maria che ha sofferto pure lei nel suo cuore immacolato, la passione e la morte del suo Divin Figlio. La croce del Redentore, e il dolore della Corredentrice, hanno sconfitto il serpente e distrutto la morte. La disciplina ecclesiastica vigente, concede l'indulgenza plenaria al fedele che compie l'esercizio della Via Crucis, rispettando le solite condizioni, confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo l'intenzione del Sommo Pontefice, con l'animo totalmente distaccato dall'affetto verso qualunque peccato. Prima stazione, Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Considera come Gesù Cristo dopo essere stato flagellato e coronato di spine, fui ingiustamente condannato da Pilato a morire crocifisso. Adorato mio Gesù, non fu Pilato, ma furono i miei peccati, che ti condannarono a morte. Per i meriti di questo doloroso viaggio, ti prego di assistermi nel cammino che l'anima mia sta facendo, verso l'eternità. Meditazione. Pilato, nel vedere il Redentore ridotto in uno stato compassionevole, pensò che la sola visione di lui avrebbe impietosito i giudei. Perciò lo condusse sulla loggia, e lo mostrò al popolo, insanguinato e coperto di piaghe, dicendo, ecco l'uomo. Egli voleva dire. Ecco l'uomo che voi avete accusato. Io l'ho condannato ai flagelli, benché innocente, per piacere a voi. È ridotto in tale stato che sembra scorticato e in fin di vita. Se con tutto ciò voi pretendete che io lo condanni a morte, vi dico che non posso farlo, perché non trovo ragione di condannarlo. Ecco l'uomo, vostro Salvatore da voi tanto aspettato. Vedete in che stato compassionevole si è ridotto per l'amore che vi ha portato, e per farsi amare da voi. Guardatelo, e amatelo. E se non vi commuovono le sue eccense qualità, almeno vi inducano ad amarlo i dolori e le ignominie che egli soffre per voi. Pilato, continuava a scusarsi con i giudei di non poter condannare a morte l'innocente Gesù. Allora essi lo spaventarono dicendogli, se liberi costui non sei amico di Cesare. E il misero giudice, accecato dal timore di perdere i favori di Cesare, dopo aver più volte riconosciuto e dichiarato Gesù innocente, alla fine lo condannò a morire crucifisso. Allora lo consegnò loro perché fosse crucifisso. L'iniqua sentenza di morte viene letta al condannato Gesù. Egli l'ascolta e umilmente l'accetta. Non si lamenta dell'ingiustizia del giudice, non si appella a Cesare come fece San Paolo, ma con mansuetudine e rassegnazione si sottomette al decreto dell'Eterno Padre, che lo condanna alla morte per i nostri peccati. Umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. E per l'amore che porta agli uomini, accetta di morire per noi, ci ha amato e ha dato se stesso per noi. Pietoso mio Salvatore, quanto ti ringrazio, quanto ti sono obbligato. Desidero morire per te che con tanto amore hai accettato la morte per me. Ma se non mi è concesso di dare per te il sangue e la vita per mano di un carnefice, come hanno fatto i martiri, almeno accetto con rassegnazione la morte che mi spetta e l'accetto nel modo e nel tempo che a te piacerà. Fin da ora te l'offro in onore della tua maestà e in espiazione dei miei peccati e per i meriti della tua morte ti prego di concedermi la sorte di morire nel tuo amore e nella tua grazia. Madre mia Maria, intercedi per noi. Amen. Padre nostro, Ave o Maria, gloria al Padre. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Le anime dei fedeli defunti per la tua misericordia, Signore, riposino in pace. Amen. Seconda stazione, Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Considera come Gesù Cristo, camminando in questo viaggio con la croce sulle spalle, pensava a te e offriva per te a Dio la morte che andava a patire. Amabilissimo Gesù mio, io abbraccio tutte le tribolazioni che mi hai destinato fino alla morte. Ti prego per il merito della pena che soffristi nel portare la croce, di aiutarmi a portare la mia con perfetta pazienza e rassegnazione. Meditazione. Santo Maso da Villanova dice che Gesù non aspettò che la croce gli fosse messa sulle spalle dal carnefice, ma da sé stesso egli allungò le mani, la prese avidamente e se la pose sulle spalle piegate. Vieni, disse allora Gesù, vieni mia cara croce. Da trentatré anni ti desidero e ti voglio, ti abbraccio, ti stringo a me, perché tu sei l'altare sul quale voglio sacrificare la mia vita per amore delle mie pecorelle. I condannati escono dal pretorio e tra di essi si avvia alla morte anche il re del cielo, l'unigenito di Dio, carico della sua croce, ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio. Che spettacolo orrendo. Il Messia, che pochi giorni prima era stato acclamato come il Salvatore del mondo e accolto con applausi e benedizioni dal popolo, che gridava, osanna al figlio di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Lo stesso Messia ora cammina legato, schernito e maledetto da tutti, con addosso una croce, per andare a morire come un furfante. O eccesso dell'amore divino! Un Dio si lascia giustiziare dagli uomini per amore di essi. Si troverà mai un uomo che non ami questo Dio. Egli è così dissanguato e stanco, che per la debolezza appena può reggersi in piedi. È tutto coperto di ferite, ha un fascio di spine sulla testa, un pesante legno sulle spalle, e un soldato lo tira con una fune. Guardalo andare col corpo curvo, con le ginocchia tremanti, perdendo sangue, cammina con tanta pena che ad ogni passo sembra stia per spirare l'anima. Tertulliano dice che la croce fu il nobile strumento con cui Gesù acquistò tante anime. Infatti, morendo su di essa egli scontò la pena dei nostri peccati, e così ci riscattò dall'inferno e ci fece suoi. Egli portò i nostri peccati sul suo corpo, sul legno della croce. Dio lo caricò di tutti i peccati degli uomini, fece ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. Quindi noi, con i nostri peccati, abbiamo reso più pesante la croce che Egli portò al Calvario. Mio Signore, come hai potuto far tanto bene a chi ti ha fatto tanto male? Quando penso che tu sei giunto a morire tra i tormenti per ottenermi l'amicizia divina, che io poi ho tante volte volontariamente perduta per colpa mia, vorrei morirne di dolore. Quante volte tu mi hai perdonato e io sono tornato ad offenderti? Come potrei sperare il perdono, se non sapessi che tu sei morto per perdonarmi? Dunque per la tua morte io spero il perdono e la perseveranza nell'amarti. Madre mia Maria, intercedi per noi. Amen. Padre nostro, Ave o Maria, gloria al Padre. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Le anime dei fedeli defunti per la tua misericordia, Signore, riposino in pace. Amen. Terza stazione. Gesù cade per la prima volta. Ti adoriamo o Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Considera questa prima caduta di Gesù Cristo sotto la croce. Aveva le carni tutte lacerate dai flagelli, la testa coronata di spine, e aveva perso molto sangue, per cui era così debole che appena poteva camminare. Portava poi quel gran peso sulle spalle, i soldati gli davano spinte, e più volte cadde in questo viaggio. Amato mio Gesù, non è il peso della croce, ma quello dei miei peccati, che ti fa batire tante pene. Te, per il merito di questa prima caduta, liberami dal cadere in peccato mortale. Meditazione. Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Mio Redentore, tu, innocente, cammini davanti a me con la tua croce, e mi inviti a seguirti con la mia. Io non voglio lasciarti. Se in passato ti ho lasciato, riconosco di aver fatto male. Ora dammi pure la croce che vuoi. Qualunque sia, io l'abbraccio, e con essa voglio accompagnarti fino alla morte. Come possiamo, Signore, non amare per amor tuo i dolori e gli obbrobri, dal momento che tu li hai amati per la nostra salvezza. Tu ci inviti a seguirti. Ebbene, vogliamo seguirti e morire con te, ma tu dacci la forza che ti domandiamo e speriamo per i meriti tuoi. Gesù mio, tu vuoi che io ti segua. Per questo mi comandi di amarti, e quando non voglio amarti mi minacci l'inferno. Ma che serve minacciarmi le miserie eterne. La mia miseria più grande sarebbe quella di non amare te, Dio amabilissimo, mio creatore e mio redentore. Per giusto castigo dei miei peccati io meriterei la condanna di non poterti più amare. Ma tu, che mi ami ancora, continui a comandarmi di amarti, ripetendomi al cuore, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Ti ringrazio, Dio mio, di questo dolce precetto. Per obbedirti, io ti amo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente. Al presente preferisco ogni pena piuttosto che vivere senza amarti. Gesù mio, aiutami a fare sempre atti d'amore verso di te e ad uscire da questa vita con un atto d'amore per venire ad amarti faccia a faccia in paradiso, dove ti amerò senza imperfezione e senza interruzione, con tutte le forze per tutta l'eternità. Madre mia Maria, intercedi per noi. Amen. Padre nostro, Ave o Maria, gloria al Padre. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Le anime dei fedeli defunti per la tua misericordia, Signore, riposino in pace. Amen. Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Considera l'incontro che ebbero in questo viaggio il figlio con la sua madre. Si guardarono insieme, Gesù e Maria, e i loro sguardi divennero come tante saette con cui si ferirono i loro cuori innamorati. Amatissimo Gesù mio, per la pena che provasti in questo incontro, concedimi la grazia di essere vero devoto della tua santissima madre. E tu, regina mia addolorata, ottienimi con la tua intercessione una continua e amorosa memoria della passione del tuo figlio. Meditazione. Quando i figli soffrono, ed esse non possono aiutarli, le madri fuggono dalla loro vista. Preferirebbero soffrire esse stesse i dolori dei figli, piuttosto che vederli patire senza poterli soccorrere. Non hanno la forza di sopportare questa pena. Maria, invece, vede il figlio fra i tormenti. Vede che i dolori gli stanno togliendo la vita, e tuttavia non fugge, né si allontana, ma si accosta alla croce dove il figlio sta morendo. Nella passione del Redentore si avverò la predizione del salmista. Io sono verme, non uomo, infamia degli uomini e rifiuto del mio popolo. Egli divenne l'obbrobrio e il rifiuto del popolo fino a morire svergognato, giustiziato per mano di carnefici su di un patibolo, come un malfattore in mezzo a due malfattori, è stato annoverato tra gli empi. Egli l'ha fatto per mostrarci quanto ci ama, e per insegnarci col suo esempio a soffrire in pace i disprezzi e le ingiurie. Cristo patì per voi, scrive San Pietro, lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Gesù mio, alla vista di un Dio disonorato per amor mio, io non so soffrire il minimo disprezzo per amor tuo, peccatore e superbo che sono. Signore, per i meriti dei disprezzi da te sofferti, dammi la grazia di soffrire con pazienza e con gioia gli affronti e le ingiurie. Propongo con il tuo aiuto di non risentirmi più e di accettare con gioia i torti e gli insulti che mi saranno fatti. Anzi, per piacere a te propongo di beneficare quanto posso chi mi disprezza, o almeno di parlarne bene e di pregare per loro. Fin da ora ti prego di colmare di grazie tutti coloro dai quali io ho ricevuto qualche ingiuria. Ti amo, bontà infinita, e voglio sempre amarti quanto posso. Madre mia Maria, intercedi per noi. Amen. Padre nostro, Ave o Maria, gloria al Padre, abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Le anime dei fedeli defunti per la Tua misericordia, Signore, riposino in pace. Amen. Quinta stazione. Simone di Cirene aiuta Gesù a portare la croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la Tua santa croce hai redento il mondo. Considera come vedendo i giudei che Gesù per la debolezza ad ogni passo quasi spirava l'anima, temendo che morisse per la via, essi che volevano vederlo morto con la morte infame di croce, costrinsero Simone di Cirene a portare la croce dietro al Signore. Dolcissimo Gesù mio, non voglio, come il Cireneo, rifiutare la croce. Io l'abbraccio e l'accetto. Accetto specialmente la morte che mi è destinata con tutte le pene che l'accompagneranno. La unisco alla Tua morte e te la offro. Tu sei morto per mio amore. Io voglio morire per Tuo amore e per farti piacere. Aiutami con la Tua grazia. Meditazione. L'uomo più bello di tutti gli uomini, più grande di tutti i monarchi, più amabile di tutti gli sposi, si mostra pieno di piaghe e di disprezzi. Tu sei per me uno sposo di sangue. Per mezzo del suo sangue e della sua morte, ha sposato le nostre anime. Egli è un re di dolore e di amore, perché ha voluto guadagnarsi il nostro affetto a forza di tormenti. Il Verbo Eterno, come amava il Padre, così odiava il peccato, del quale conosceva bene la malizia. Per questo egli era venuto in terra, si era fatto uomo e aveva incominciato a soffrire una passione e una morte così dolorosa, per togliere il peccato dal mondo e per non vedere più offeso il suo amato Padre. Ma poi, vedendo che nonostante le sue sofferenze, si sarebbero commessi nel mondo tanti peccati, il suo dolore, come dice Sant'Omaso, superò il dolore che qualsiasi penitente ha mai sentito per le proprie colpe e qualunque pena che possa affliggere un cuore umano. La ragione è questa. Tutte le pene degli uomini sono sempre mescolate con qualche sollievo, invece il dolore di Gesù fu puro dolore, senza alcun sollievo. Quale tormento dovette provare il cuore di Gesù nel vedere tutti i peccati del mondo, le bestemmie, i sacrilegi, le disonestà e tutte le altre colpe che gli uomini avrebbero commesso dopo la sua morte. Ognuna di esse venne allora, come una fiera crudele, a lacerargli il cuore con la sua malizia. Abbandonato mio Gesù, chi prenderà le tue difese se al momento della tua cattura i tuoi amici si allontanano e ti abbandonano? E questo disonore purtroppo non finì con la tua passione. Tante persone, dopo essersi dedicate alla tua sequela e dopo essere state favorite da te con molte grazie e speciali segni di amore, spinte poi da qualche passione, da un vile interesse o dal rispetto umano o da un piacere impuro, ingrate ti lasciano. Chi si ritrova nel numero di questi ingrati pianga dicendo, mio caro Gesù, perdonami. Io non voglio più abbandonarti, voglio perdere la vita e mille vite piuttosto che perdere la tua grazia. Madre mia Maria, intercedi per noi. Amen. Padre nostro, Ave o Maria, gloria al Padre. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Le anime dei fedeli defunti per la tua misericordia, Signore, riposino in pace. Amen. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Considera come la santa donna Veronica, vedendo che Gesù era affannato e con il volto bagnato di sudore e di sangue, gli porse un lino, e asciugandosi con quello, nostro Signore vi lasciò impressa la sua sacra immagine. Diletto mio Gesù, il tuo volto prima era bello, ma in questo viaggio non appare più bello, ma tutto deformato dalle ferite e dal sangue. Oimè, anche l'anima mia fu bella, quando ricevette la tua grazia nel battesimo, ma io l'ho deformata poi con i miei peccati. Tu solo, mio Redentore, puoi restituirle l'antica bellezza. Fallo per la tua passione. Meditazione I tuoi occhi vedranno il tuo Maestro. Agli uomini fu promesso di vedere con i propri occhi il loro divino Maestro. Tutta la vita di Gesù fu un continuo esempio e scuola di perfezione, ma fu soprattutto sulla cattedra della croce che Egli ci insegnò le sue più belle virtù. Sulla croce ci ammaestrò bene sulla pazienza, specialmente in tempo di malattia. Infatti su di essa Gesù infermo soffrì con somma pazienza i dolori della sua amarissima morte. Sulla croce con il suo esempio ci insegnò un'esatta obbedienza ai divini precetti, una perfetta rassegnazione alla volontà di Dio e soprattutto ci insegnò come si deve amare. Così si ama. Sembra che ci dica il Redentore dalla croce quando noi, per non soffrire qualche molestia, abbandoniamo le opere di suo gradimento e talvolta giungiamo a rinunciare perfino alla sua grazia e al suo amore. Egli ci ha amati fino alla morte e non scese dalla croce se non dopo avervi lasciato la vita. Io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Gesù disse che quando sarebbe stato innalzato sulla croce, con i suoi meriti, con il suo esempio e con la forza del suo amore, Egli avrebbe attirato gli uomini al suo amore. O anime redente, ci esorta la Santa Chiesa, guardate il vostro Redentore sulla croce dove tutto il suo aspetto ispira amore e invita ad amarlo. Sant'Agostino aggiunge, ha il capo inchinato per dare il bacio di pace, le braccia stese per abbracciarci, il cuore aperto per amarci. O maestro d'amore, i maestri della terra insegnano con la voce, tu invece su questo letto di morte insegni con il dolore. Essi insegnano per interesse, tu per affetto, non chiedendo altra ricompensa che la mia salvezza. Gesù mio, salvami, donandomi la grazia di amarti e di contentarti sempre. Amare Te è la salvezza mia. Madre mia Maria, intercedi per noi. Amen. Padre nostro, Ave o Maria, gloria al Padre. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Le anime dei fedeli defunti per la Tua misericordia, Signore, riposino in pace. Amen. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Ti adoriamo, Cristo, e Ti benediciamo, perché con la Tua santa croce hai redento il mondo. Considera la seconda caduta di Gesù sotto la croce, con la quale si rinnova all'afflitto, Signore, il dolore di tutte le ferite del Suo venerando Capo e di tutte le altre Sue sacre membra. Mansuetissimo Gesù mio, quante volte mi hai perdonato e io sono tornato a cadere e ad offenderti. Te, per il merito di questa nuova caduta, aiutami a perseverare nella Tua grazia fino alla morte. Fa che in tutte le tentazioni che mi assaliranno, io sempre mi raccomandi a Te. Meditazione. Quale modo più idoneo poteva trovare Dio per mostrarci l'amore immenso che ha per noi, che col farsi uomo e patire per noi? Mostrandosi a noi coperto di piaghe, crocifisso e moribondo, Dio ci diede il segno più grande dell'amore che ci porta. Dio sulla croce mostra il Suo immenso amore, dice Cornelio a Lapide. E prima di lui, San Bernardo disse che Gesù nella Sua passione ci fece conoscere il Suo affetto per noi, che non avrebbe potuto essere più grande. Nella vergogna della passione appare il più grande e incomparabile amore. L'Apostolo scrive che nella morte di Gesù per la nostra salvezza, apparve fino a che punto giungeva l'amore di Dio per noi, misere creature. Si sono manifestati la bontà di Dio, Salvatore nostro, e il Suo amore per gli uomini. Gesù Cristo avrebbe potuto salvare anche senza soffrire, vivendo una vita serena e beata. Egli invece, in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce. Egli rinunziò alle ricchezze, alle gioie, agli onori terreni, e scelsi una vita povera, e una morte piena di dolori e di obbrobri. Santo Maso scrive, Cristo, patendo per amore, offrì a Dio più di quanto esigesse la riparazione dell'offesa fatta dal genere umano. Gesù ci amava tanto, e voleva da noi altrettanto amore. Egli soffrì, e fece di tutto, per guadagnarsi il nostro amore. Dice San Bernardo, egli volle soffrire molto, per obbligare l'uomo ad amare molto. Il nostro Salvatore disse che la prova più grande per dimostrare il proprio amore per la persona amata, è dare la vita per essa. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Ma Gesù, osserva San Bernardo, ha fatto ancora di più, perché ha dato la vita per noi, che eravamo non suoi amici, ma nemici e ribelli. Tu, Signore, hai avuto un amore più grande, donando la vita per dei nemici. È ciò che aveva detto l'Apostolo. Dio dimostra il suo amore verso di noi, perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Gesù mio, tu hai voluto morire per me, tuo nemico, e io resisterò ancora a tanto amore? No. Con tanta premura tu desideri che io ti ami. Eccomi, ti amo sopra ogni cosa, allontano da me ogni altro amore, e voglio amare soltanto te. Madre mia Maria, intercedi per noi. Amen. Padre nostro, Ave o Maria, gloria al Padre. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Le anime dei fedeli defunti per la tua misericordia, Signore, riposino in pace. Amen. Ottava stazione. Gesù, consola le donne di Gerusalemme. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Considera come le donne, vedendo Gesù Cristo affannato e che perdeva sangue lungo la via, piangevano per compassione. Ma Gesù disse loro, non piangete su di me, ma sui vostri figli. Addolorato mio Gesù, io piango le offese che ti ho fatto, per le pene da me meritate, ma più per il disgusto che ho dato a te che tanto mi hai amato. Non tanto l'inferno quanto il tuo amore mi fa piangere i miei peccati. Meditazione. Chi mai può consolarci tanto, in questa valle di lacrime, quanto Gesù crocifisso. Nei rimorsi di coscienza, che il ricordo dei nostri peccati risveglia in noi, cosa può raddolcire le punture che ne proviamo, più del sapere che Gesù ha dato se stesso alla morte per pagare le nostre colpe. Ha dato se stesso per i nostri peccati. In tutte le persecuzioni, calunnie, disprezzi, privazioni di beni e di onori che ci capitano in questa vita, chi può confortarci a sopportarle con pazienza e rassegnazione meglio di Gesù, disprezzato, calunniato e povero, che muore nudo e abbandonato da tutti su di una croce. Nelle malattie nulla ci consola più del pensiero di Gesù crocifisso. Quando siamo ammalati, noi stiamo in un letto comodo, ma quando era dolorante sulla croce, Gesù non ebbe altro letto che un rozzo legno, sul quale fu appeso con tre chiodi, né altro guanciale per appoggiarvi l'afflitto capo che una corona di spine, la quale lo tormentò fino all'ultimo respiro. Quando siamo ammalati, noi abbiamo intorno al letto parenti e amici che ci compatiscono e ci distraggono. Gesù invece morì in mezzo a nemici che, mentre egli agonizzava e si avvicinava alla morte, lo ingiuriavano e lo deridevano come un malfattore e un seduttore. Sicuramente non c'è cosa che possa sollevare maggiormente un infermo nelle sue sofferenze, specialmente chi nella sua infermità si trova abbandonato dagli altri, quanto il pensiero di Gesù crocifisso. Unire allora le proprie sofferenze a quella di Gesù è il sollievo più grande che possa avere un povero infermo. Soprattutto nelle angustie della morte e negli ultimi assalti dell'inferno, al ricordo dei peccati commessi e al pensiero che tra breve si dovrà rendere conto di essi davanti al tribunale di Dio, l'unica consolazione che potrà avere un moribondo che sta combattendo con la morte sarà quella di abbracciare il crocifisso e di dirgli, Gesù mio e Redentore mio, tu sei l'amore e la speranza mia. In conclusione, tutte le grazie che noi riceviamo da Dio, le ispirazioni, i santi desideri, gli affetti devoti, il dolore dei peccati, i buoni propositi, l'amore di Dio e la speranza del paradiso, tutte sono frutti e doni provenienti dalla passione di Gesù Cristo. Gesù mio, quale speranza potrei avere io che tante volte ti ho voltato le spalle e ho meritato l'inferno di venire a contemplare il tuo volto in cielo insieme alle vergini innocenti, ai martiri, agli apostoli e ai serafini, se tu non fossi morto per me. E la tua passione che nonostante i miei peccati mi fa sperare di venire un giorno anch'io in compagnia dei santi e della tua santa madre a ringraziarti per la tua misericordia e ad amarti per sempre in paradiso. Madre mia Maria, intercedi per noi. Amen. Padre nostro, Ave o Maria, gloria al Padre. Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Le anime dei fedeli defunti per la tua misericordia, Signore, riposino in pace. Amen. Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo, O Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Considera la terza caduta di Gesù Cristo. Era troppa la debolezza di Gesù e troppa era la crudeltà dei carnefici, i quali volevano che affrettasse i passi quando appena aveva la forza di camminare. Strapazzato mio Gesù, per il merito della debolezza che volesti patire nel viaggio al Calvario, dammi forza bastante a vincere tutti i rispetti umani e tutti i miei cattivi appetiti che in passato mi hanno indotto a disprezzare la tua amicizia. Meditazione. La legge divina impone agli uomini di amare il prossimo come se stessi, ma Gesù ha amato gli uomini più di se stesso, dice San Cirillo. Il nostro Redentore è giunto ad amarci più di se stesso, poiché per salvarci ha voluto perdere la sua vita divina, infinitamente più preziosa di quella di tutti gli uomini e di tutti gli angeli messi insieme. O Dio infinito, esclama Guerrico Abate, per amore dell'uomo tu sei diventato, se è lecito dirlo, prodigo di te stesso. Infatti, per recuperare l'uomo perduto, hai voluto donare non solo i tuoi beni, ma perfino te stesso. O prodigio, o eccesso d'amore degno solo di una bontà infinita, scrive Santo Maso da Villanova. Chi mai potrà comprendere anche solo lontanamente l'immensità del tuo amore, nell'aver amato noi miseri vermi fino al punto da voler morire per noi e morire sulla croce. Questo amore, conclude il santo, eccede ogni misura, ogni intelligenza. È una cosa bella per una persona vedersi amata da un grande personaggio, tanto più se esso può sollevarla dalla sua miseria. Ora, quanto più bello deve essere per noi vedersi amati da Dio, che può sollevarci ad una fortuna eterna. Nell'antica legge l'uomo poteva dubitare che Dio l'amasse con tenero amore, ma dopo averlo visto versare il sangue e morire sopra un patibolo, come possiamo ancora dubitare che Egli ci ami con estremo affetto e tenerezza. Anima mia, contempla il tuo Gesù coperto di piaghe, esse sono la prova del suo amore. Attraverso le ferite del corpo appare l'amore del suo cuore, dice San Bernardo. Caro mio Gesù, vederti morire tra gli affanni su questo legno dobrobrio certo mi affligge, ma nello stesso tempo le tue piaghe mi fanno conoscere l'amore che mi porti e questo mi consola e mi innamora tanto di te. Serafini del cielo, che ve ne pare della carità del mio Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Madre mia Maria, intercedi per noi. Amen. Padre nostro, Ave o Maria, gloria al Padre. Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi. Le anime dei fedeli defunti per la tua misericordia, Signore, riposino in pace. Amen. Decima stazione. Gesù è spogliato delle vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo. Considera come venendo Gesù spogliato dai carnefici con violenza, poiché la veste si era attaccata alle carni lacerate dai flagelli, nell'essergli strappata gli fu strappata anche la pelle. Compatisci il tuo Signore e digli, innocente mio Gesù, per il merito del dolore che allora sentisti, aiutami a spogliarmi di tutti gli affetti alle cose di questa terra, affinché io riponga tutto il mio amore in te, che sei degno di essere amato. Meditazione. Appena terminata la flagellazione, quei barbari soldati, istigati e corrotti con denaro dai giudei, come asserisce San Giovanni Crisostomo, sottopongono il Redentore ad una nuova specie di tortura. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono intorno tutta la coorte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciata una corona di spine e gliela posero sul capo con una canna nella destra. I soldati lo spogliano di nuovo e, trattandolo da re di burla, gli pongono addosso una veste rossa che non era altro che uno strazzo di mantello usato dai soldati romani chiamato clamide. Gli mettono in mano una canna come segno di scettro e un fascio di spine sulla testa come segno di corona. E Gesù, vero re dell'universo, ora è divenuto re di dolore e di bituperio. Ecco fin dove lo ha condotto l'amore. Le spine erano così lunghe che penetrarono fino al cervello e l'agnello mansueto subiva questa tortura senza dire una parola, senza gridare. L'abbondanza di sangue che scorreva dalle ferite del sacro capo era tanta che sulla sua faccia si vedeva soltanto il colore del sangue, secondo la rivelazione di Santa Brigida. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo scarnivano. Salve, re dei giudei! Esputandogli addosso gli tonsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. San Giovanni aggiunge, e gli davano schiaffi. Dopo aver posto sul capo di Gesù quella tormentosa corona e averla premuta a viva forza con le mani, quei barbari presero la canna e la usarono come martello per conficcare le spine. Quindi cominciarono a deriderlo come re di scherno. Gli si inginocchiavano davanti, salutandolo come re dei giudei. Poi, alzandosi, gli sputavano in faccia e lo schiaffeggiavano con gride e risate di disprezzo. Povero Gesù, come sei ridotto! Se uno fosse allora passato per caso da quel luogo e avesse visto Gesù in quello stato, dissanguato, coperto con quello straccio rosso, con quello scettro in mano, con quella corona sulla testa, così deriso e maltrattato da quella gentaglia, per chi lo avrebbe preso, se non per l'uomo più miserabile e scellerato del mondo. Mio caro Redentore, ricevi un servo ribelle che ti ha lasciato, ma che ora ritorna a te pentito. Quando io ti sfuggivo e disprezzavo il tuo amore, tu non hai smesso di inseguirmi per attirarmi a te. Per questo non temo che mi caccerai ora che ti cerco, ti stimo e ti amo sopra ogni cosa. Fammi conoscere quello che devo fare per compiacerti, e lo voglio fare. Dio amabilissimo, io ti voglio amare davvero e non voglio offenderti più. Aiutami tu con la tua grazia, non permettere che io ti lasci più. Madre mia Maria, intercedi per noi. Amen. Padre nostro, Ave o Maria, gloria al Padre. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Le anime dei fedeli defunti per la tua misericordia, Signore, riposino in pace. Amen. Undicesima stazione. Gesù è inchiodato sulla croce. Ti adoriamo, O Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Considera come Gesù, gettato sulla croce, stende le mani e offre all'Eterno Padre il sacrificio della sua vita per la nostra salvezza. Lo inchiodano quei barbari e poi, alzando la croce, lo lasciano a morire di dolore su quel patibolo infame. Disprezzato mio Gesù, inchioda questo mio cuore ai tuoi piedi, affinché resti lì per sempre ad amarti e non ti lasci più. Meditazione. Siamo arrivati alla crocifissione, all'ultimo tormento che procurò la morte a Gesù Cristo. Siamo giunti sul Calvario, divenuto teatro dell'amore divino, dove un Dio perde la vita in un mare di dolori. Quando giunsero al luogo detto cranio, lì lo crocifissero. Quando il Signore arriva a stento sul monte, per la terza volta gli strappano con violenza le vesti attaccate alle piaghe del corpo e lo mettono sopra la croce. L'agnello divino si stende su quel letto di tormento, presenta ai carnefici le mani e i piedi per esservi inchiodato e, alzando gli occhi al cielo, presenta all'Eterno Padre il sacrificio della sua vita per la salvezza degli uomini. Sant'Agostino dice di non esservi morte più crudele della morte di croce. Ma i dolori di Gesù superarono ogni altro dolore, perché, come dice l'angelico, il corpo di Gesù, essendo perfetto, era più sensibile al dolore. Il suo corpo fu plasmato dallo Spirito Santo in maniera adatta al patire. Mi hai adattato un corpo. Egli gira l'addolorato capo ora da una parte, ora da un'altra. Se lo abbandona sul petto, le mani per il peso si squarciano di più. Se lo appassa sulle spalle, queste vengono trafitte dalle spine. Se lo appoggia alla croce, le spine penetrano maggiormente nella testa. Gesù mio, che morte amara è la tua! Mio Redentore Crucifisso, io ti adoro su questo trono di ignominie e di pene. Sulla croce c'è scritto che tu sei re, Gesù Nazareno, il re dei giudei. Ma all'infuori di questo titolo di scherno, quali segni di re tu mi mostri? Le mani inchiodate, il capo coperto di spine, il trono di dolore, le carni lacerate ti fanno apparire come un re d'amore. Mi accosto dunque umiliato e intenerito a baciare i tuoi piedi trafitti per amor mio. Abbraccio questa croce sulla quale tu, vittima d'amore, ti sei sacrificato per me alla divina giustizia. Felice obbedienza che ci ottenne il perdono dei peccati. Mio Salvatore, ti ringrazio, e per i meriti della tua obbedienza, donami la grazia di obbedire in tutto alla volontà divina. Anima fedele, ama dunque il tuo Dio che tanto ti ha amato, e semmai dubiti del suo amore, guarda, dice Sant'Ommaso da Villanova, guarda la croce, i dolori e la morte crudele che gli ha sofferto per te. Essi sono la testimonianza di quanto il Redentore ti ama. Testimone la croce, testimoni i dolori, testimone la morte atroce che gli ha sofferto. Gesù mio, ti vedo addolorato e mesto al pensiero che dopo aver tanto sofferto fino a morire di spasimo sulla croce, saranno così pochi quelli che ti ameranno. Al presente, infatti, quanti cuori anche di quelli a te consacrati non ti amano o ti amano troppo poco. O fiamme d'amore, che sulla croce consumaste la vita di un Dio, consumate tutti gli affetti disordinati che abitano nel mio cuore, e fate ch'io viva ardendo solo per il mio Signore, che per amor mio volle finire la vita consumato dai tormenti su di un patibolo infame. Amato mio Gesù, io voglio amare sempre e soltanto te, mio Dio e mio tutto. Madre mia Maria, intercedi per noi. Amen. Padre nostro, Ave o Maria, gloria al Padre. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Le anime dei fedeli defunti defunti per la Tua misericordia, Signore, riposino in pace. Amen. Dodicesima stazione. Gesù, muore sulla croce. Ti adoriamo Cristo, e ti benediciamo. Perché con la Tua Santa Croce hai redento il mondo. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse, tutto è compiuto. Gesù, essendo ormai vicino a spirare, si pose davanti agli occhi tutti i patimenti della sua vita, povertà, sudori, pene, ingiuri e sofferte, e offrendo di nuovo tutto all'Eterno Padre, disse, tutto è compiuto. Si è realizzato tutto ciò che di me hanno predetto i profeti. Si è compiuto interamente il sacrificio che Dio aspettava per riconciliarsi con il mondo, e la giustizia divina è stata pienamente placata. Meditazione. Tutto è compiuto, disse Gesù rivolto al Padre. Queste parole erano rivolte anche a noi, come se dicesse, uomini, ho fatto tutto quello che ho potuto per salvarvi e guadagnare il vostro amore, io ho fatto la mia parte, ora voi fate la vostra, amatemi. Non vi dispiace di amare un Dio che è giunto a morire per voi. Mio Salvatore, potessi anch'io dire in punto di morte, almeno per il tempo di vita che mi rimane. È compiuto, Signore, ho fatto la Tua volontà, Ti ho obbedito in tutto. Gesù mio, propongo e spero di farlo con il Tuo aiuto. Gesù, gridando a gran voce, disse, Padre, nelle Tue mani consegno il mio spirito. Queste furono le ultime parole pronunziate da Gesù sulla croce. Vedendo che la sua anima benedetta stava per separarsi dal suo corpo straziato, Egli, totalmente abbandonato alla volontà divina e con fiducia filiale, disse, Padre, rinuncio alla mia volontà, non voglio vivere né morire. Se ti piace che io continui a patire su questa croce, sono pronto. Nelle Tue mani consegno il mio spirito. Fa di me quello che puoi. Magari dicessimo così anche noi quando siamo sopra una croce, lasciandoci totalmente guidare dal beneplacito del Signore. Ciò è necessario soprattutto in punto di morte, ma per farlo bene allora dobbiamo praticarlo spesso durante la vita. Gesù mio, nelle Tue mani affido la mia vita e la mia morte. Mi abbandono a Te senza riserve e fin da adesso ti raccomando l'anima mia. Quando sarò arrivato alla fine, accoglila nelle Tue sante piaghe, come il Padre accolse il Tuo spirito quando moristi sulla croce. Finalmente al moribondo Signore, per la violenza del dolore, ormai privo di forze, viene meno il respiro, si abbandona con il corpo, china la testa sul petto, apre la bocca, espira. Echinato il capo, rese lo spirito. Anima bella del mio Salvatore, esci e va ad aprirci la porta del Paradiso finora chiuso per noi. Va a presentarti alla Maestà Divina per impetrare il perdono e la salvezza. La gente, sentendolo gridare a gran voce le ultime parole, si gira verso Gesù, lo guarda attentamente in silenzio, lo vede spirare ed esclama, è morto, è morto! Sì, è morto l'autore della vita, l'unigenito di Dio, il Signore del mondo. Un Dio è morto per amore delle sue creature. Un Dio ha sacrificato le sue gioie, il suo onore, il suo sangue, la sua vita per delle creature ingrate, ed è morto in un mare di dolori e di disprezzi per pagare le nostre colpe. Anima mia, alza gli occhi e contempla Gesù crocifisso. Guarda l'agnello divino sacrificato su un altare di dolore. Pensa che Egli è il figlio prediletto dell'Eterno Padre e che è morto per amor tuo. Egli ha le braccia aperte per accoglierti, il capochino per darti il bacio della pace, il costato aperto per riceverti. Non merita forse di essere amato, un Dio così buono e pieno d'amore? Dalla croce, il tuo Signore ti dice, Figlio, chi mai al mondo ti ha amato più di me, tuo Dio. Madre mia Maria, intercedi per noi. Amen. Padre nostro, Ave o Maria. Gloria al Padre. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Le anime dei fedeli defunti per la Tua misericordia, Signore, riposino in pace. Amen. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la Tua santa croce hai redento il mondo. Considera come essendo già aspirato il Signore, lo calarono dalla croce due Suoi discepoli, Giuseppe e Nicodemo, e lo riposero in braccio all'afflitta madre, la quale con tenerezza lo accolse e se lo strinse al seno. O madre addolorata, per amore di questo figlio accettami per tuo servo e pregalo per me. E tu, mio Redentore, già che per me sei morto, accettami ad amarti, mentre io solo te voglio e niente più. Meditazione. Stava presso la croce di Gesù sua madre. Questa regina dei martiri soffre una sorta di martirio, il più crudele che ci sia, quello di una madre che vede morire davanti a sé un figlio innocente, giustiziato sopra un patibolo infame. Dal momento in cui Gesù fu catturato nell'orto degli ulivi, i discepoli lo hanno abbandonato. Maria invece non lo abbandona, ma lo assiste fino a vederlo spirare davanti ai Suoi occhi. Madre addolorata, lascia che mi unisca a te nell'assistere alla morte del tuo e mio Gesù. Stava presso la croce. La croce è il letto sul quale Gesù lascia la vita, letto di dolore sul quale l'afflitta madre sta guardando Gesù, sanguinante per i flagelli e le spine. Maria osserva il povero figlio appeso a tre chiodi che non trova una posizione di sollievo. Vorrebbe lenire le sue sofferenze, vorrebbe almeno farlo morire tra le sue braccia, ma nulla di tutto ciò le è permesso. O croce sospira, dammi il figlio mio, tu sei un patibolo per malfattori, ma il figlio mio è innocente. Ma l'affanno di Maria non trova risposta. È volontà dell'Eterno Padre che la croce non gli restituisca Gesù, se non dopo che è morto. Regina dei dolori, impetrami il dolore dei miei peccati. Anima mia, contempla Maria ai piedi della croce mentre sta guardando il figlio. Colui che era insieme suo figlio e suo Dio. colui che sin dall'eternità l'aveva scelta come sua madre e nel suo amore l'aveva preferita a tutti gli uomini e a tutti gli angeli. Un figlio così bello, così santo e così amabile. Il figlio che lei amava più di se stessa come figlio e come Dio. Questa madre vide il figlio morire di dolore davanti ai suoi occhi. O Maria, madre afflitta più di tutte le madri, compatisco il tuo cuore, specialmente quando vedesti il tuo Gesù abbandonarsi sulla croce, aprire la bocca e espirare. Per amore di questo figlio morto per la mia salvezza, raccomandagli l'anima mia. E tu, Gesù mio, per i meriti dei dolori di Maria, abbi pietà di me e concedimi la grazia di morire per te, come tu sei morto per me. Madre mia Maria, intercedi per noi. Amen. Padre nostro, Ave o Maria, gloria al Padre. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Le anime dei fedeli defunti per la tua misericordia, Signore, riposino in pace. Amen. Quattordicesima stazione. Gesù è deposto nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Considera come i discepoli portarono a seppellire Gesù già morto, accompagnato ancora dalla sua santa madre, la quale lo accomodò nel sepolcro con le sue stesse mani. Quindi chiusero il sepolcro e di là tutti si allontanarono. Ah, Gesù mio seppellito, bacio questa pietra che ti racchiuse. Ma di là dopo tre giorni risorgesti. Ti prego per la tua risurrezione di farmi risorgere nel giorno finale con te, glorioso, per venire a stare sempre unito a te in cielo, a lodarti e amarti per sempre. Considera come il tuo Gesù dopo tre ore di agonia sulla croce, finalmente consumato dai dolori, si abbandona con il corpo, china la testa e muore. Meditazione O morto mio Gesù, bacio intenerito codesta croce, ove per me sei morto. Io per i miei peccati ho meritato di fare una cattiva morte, ma la tua morte è la mia speranza. Per i meriti della tua morte concedimi la grazia di morire abbracciato ai tuoi piedi e ardendo d'amore per te. Nelle tue mani raccomando l'anima mia. Mentre Gesù stava morendo sulla croce, gli uomini continuavano a tormentarlo con sarcasmi e scherni. Alcuni gli dicevano, ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Altri, se è il re di Israele scenda ora dalla croce. E mentre questi lo ingiuriano, Gesù sulla croce prega l'Eterno Padre di non punirli, ma di perdonarli. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Domandò il perdono per i suoi persecutori e l'ottenne, perché essi, dopo averlo visto morto, si pentirono del loro peccato. Se ne tornavano percuotendosi il petto. Mio Salvatore, eccomi ai tuoi piedi. Io sono stato uno dei tuoi più ingrati persecutori. Prega anche per me il Padre tuo che mi perdoni. I giudei e i carnefici, crocifiggendoti, non sapevano quello che facevano. Io invece sapevo bene che peccando offendevo un Dio crocifisso e morto per me, ma il tuo sangue e la tua morte hanno meritato la misericordia divina anche per me. Mio dolce Redentore, guardami con lo stesso sguardo d'amore con cui mi guardasti sulla croce. Guardami e perdonami ogni ingratitudine nei tuoi confronti. Ti amo con tutto il cuore, e alla vista del tuo esempio, amo anche coloro che mi hanno offeso. Desidero per essi ogni bene, e propongo di servirli e di soccorrerli quanto posso per amore tuo, mio Signore morto per me, che tanto ti ho offeso. Per bocca del profeta, Gesù moribondo sulla croce si lamentava di non trovare qualcuno che lo consolasse. Ho atteso compassione, ma in vano, consolatori, ma non ne ho trovati. I Giudei e i Romani, anche mentre gli stava per morire, lo maledicevano e lo bestemmiavano. È vero che sotto la croce c'era Maria Santissima che avrebbe voluto consolarlo, ma questa afflitta madre, con il suo dolore per le pene di Gesù, affliggeva ancora di più il figlio che tanto la amava. Dice San Bernardo che le pene di Maria aumentavano le sofferenze del cuore di Gesù. Il fiume di amarezza della madre si riversava sul figlio. Il Redentore, guardando Maria così addolorata, sentiva trafiggersi l'anima dai dolori della madre, più che dai suoi. Quali affanni dovettero provare i cuori di Gesù e di Maria, allorché giunse per Gesù il momento di accomiatarsi dalla madre prima di morire. Ecco le ultime parole con le quali Gesù si accomiatò in questo modo da lei. Donna, ecco il tuo figlio. Con queste parole, egli le lasciava Giovanni come figlio al posto suo. O regina dei dolori, i ricordi di un figlio amato che muore sono troppo cari e restano impressi per sempre nella memoria di una madre. Ricordati che il tuo figlio che tanto ti ha amato, nella persona di Giovanni ti ha lasciato per figlio, me peccatore, per l'amore che porti a Gesù. Abbi pietà di me, io non ti chiedo beni terreni. O Maria, impetrami una grande devozione e una continua memoria della passione del tuo figlio. Per l'affanno che soffristi nel vederlo spirare sulla croce, ottienimi una buona morte, assistimi in quel momento estremo e fammi morire amando e pronunciando i vostri santi nomi di Gesù e di Maria. Madre mia Maria, intercedi per noi. Amen. Padre nostro, Ave o Maria, gloria al Padre. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi. Le anime dei fedeli defunti per la tua misericordia, Signore, riposino in pace. Amen. Padre nostro, Ave o Maria, gloria al Padre. Abbi pietà di noi. Se ti è piaciuto questo video, metti pure un like, un commento sarebbe graditissimo. Puoi iscriverti al canale, appunto, cliccando iscriviti. E con l'opzione della campanella attivata, puoi attivare tutte le notifiche per avere in tempo reale l'uscita dei video, che più o meno sono in ordine di 1 o 2 al giorno. Grazie e Dio ti benedica.